E' stata la giornata di Frank Ribéry, una lunga giornata cominciata mattino presto in Germania e conclusasi con la conferenza stampa di presentazione a Saverno presso la sede della Caffè Motta. Prima c'è stato il passaggio allo stadio Arechi dove è stata presentata la rosa della Salernitana, c'era tanta gente, più di 5.000 persone che hanno salutato i Granata, ovviamente la grande attenzione era per Frank Ribéry che è entrato in campo con la maglia numero 7, ha regalato qualche palleggio e qualche parola ai tifosi. Poi qui nella conferenza stampa in cui il francese ha ribadito la volontà di fare qualcosa di importante anche a Saverno, la voglia di giocare è ancora tanta, ha detto, voglio giocare per i tifosi. Oggi quando sono arrivato a Saverno ho sentito dei tifosi, delle persone, di cuore, c'è una passione incredibile che si vive veramente. Io sono un po' così, perché per questo sono venuto qua a Saverno e sono contento anche oggi il stadio, come è ancora di più con la squadra, perché con la mia nuova squadra è stato bello. Quando ho visto l'ambiente dei tifosi si vede che sono sempre dietro la squadra a difendere le colori della squadra. Per me è il futuro, sono venuto per portare una mano di più alla squadra, portare la mia esperienza, aiutare la squadra e fare il mio massimo. Io penso che abbiamo veramente un objetivo importante, che tutti sappiamo, è la salvazione e questo è fondamentale per tutti. Sappiamo che la Serie A è un campionato molto difficile, c'è tante squadre fortissime, però oggi sono con la mia nuova squadra e dove trovare il più veloce possibile il mio ritmo, perché è facile fare l'alimento solo, però con la squadra è diverso. Mi piace aiutare i giocatori, perché ogni tanto c'è un po' meno esperienza, che sono un po' più giovane e perdono subito la confidenza. E questo è importante, c'è un ruolo importante, come ho parlato anche con il mister, la cosa più importante è la comunicazione, che fa le differenze. Abbiamo fatto una conferenza insieme a Whatsapp video, nel momento ho sentito veramente un effetto molto importante. E anche quando non sono stato ancora a Salerno, ho già sentito a Monaco questo, fuori dai messaggi, su Instagram. E questo mi ha piaciuto molto molto e perché mi ha aiutato anche molto. Sì, non potevo rispondere a tutti, però ho visto, e questo è stato veramente incredibile, come l'ho visto oggi, come oggi, quanto siete oggi. Per me è una cosa che non puoi dimenticare. Anche se ho conosciuto tante cose della mia carriera, ho vinto tanti trofei, però è così, c'è la piccola cosa che rimane. Io vivo per il calcio, c'è una passione. Se io vivo per i soldi, oggi non sono qua. E questo è importante. E la mia famiglia è stata fondamentale, nel senso che c'è cinque bambini, c'è la mia moglie. E prima di venire là, qui, ho detto a Angelo, ti dare la mia parola. Ti l'ho spiegato anche, io dovevo entrare a Monaco per spiegare la situazione alla mia famiglia, perché non puoi decidere solo. E sono così, perché la mia famiglia è molto importante. Ho parlato con i miei bambini, è stato difficile, duro, nel senso che il babbo di nuovo va via. E stamattina è stato più peggio, però nella vita dovevo fare dei sacrifici, dovevo capire. E la mia famiglia doveva venire anche a trovare a Casalerno. E ogni tanto dovevo anche a trovare a Monaco e dopo non c'è problema. Non so quanto ci fosse stato oggi, forse cinque mila, non lo so. Immaginare che il stagione è pieno. Ho capito che c'è un ambiente incredibile, che tutti cantano. Alla fine la curva, come si è comportato. Lontano che non ho visto questo. E questo, la verità, mi piace molto e mi aiuta. E quando sono al campo per giocare, io non gioco per me. Sì, mi divertisco, però gioco per i cifosi. Alla fine io vorrei tornare a casa con la vittoria. E io lo so che i cifosi sono contenti. Questo mi piace. Oggi, per me è importante, io vorrei vedere il mio attaccante che fa il più dei gol possibili. E questo deve aiutare. Portare la confidenza. Perché ogni tanto c'è dei giocatori che non fanno per due partite, non fanno gol. Cominciano a pensare per le confidenze. Cominciano a guardare chi è successo fuori, chi scrive. E questo deve aiutare i miei attaccanti.